Il Consiglio Comunale di Caprese Michelangelo ha approvato all'unanimità la variante del regolamento urbanistico che disciplina le caratteristiche tecniche, l'ubicazione e la potenza elettrica di impianti a biomasse e a biogas nel territorio di Caprese. Le nuove norme recepiscono in gran parte le proposte avanzate dal Comitato Ambiente e Salute di Caprese Michelangelo e sono così sintetizzabili. Massima potenza termica in ingresso di 200 kW, la produzione di energia degli impianti dovrà essere di tipo cogenerativo. In zona agricola gli impianti potranno essere realizzati da aziende agricole e forestali locali con l'utilizzo di materie di produzione aziendale e materiale comunque proveniente dal territorio comunale. Gli impianti dovranno rispettare la distanza minima topografica di 500 tra gli altri impianti da biomasse o biogas e di 200 metri dalle abitazioni di terzi. Il rispetto delle nuove norme eviterà che in futuro possano essere riproposti sul territorio comunale impianti di grande potenza completamente avulsi dal territorio. Infatti la limitata potenza degli impianti di tipo cogenerativo se da un lato può risultare di interesse per le aziende agricole e forestali locali tende a evitare di riproporsi impianti di generazione elettrica di tipo cogenerativo a solo titolo speculativo. Dopo questo traguardo raggiunto il Comitato tornerà a occuparsi della centrale a biomasse prevista nella frazione di là ma anche con maggiore energia e determinazione. Adesso il Comitato attende quale sarà la decisione presa nei prossimi giorni dal Tardella Toscana. Grazie a tutti.